E' stato definito uno degli acquisti più importanti forse della campagna acquisti di questo Brescia, ben ritrovato Igor Bubnich, con quale ambizione arrivi a vestire la casacca bianco-azzurra? Buongiorno a tutti, sono qua per una motivazione, per giocare e aiutare la Brescia che fa un risultato buono questo anno, io do sempre il massimo anche per questi tifosi che sono molto bravi qua, per questa società e anche alla fine per me. Essere sceso di categoria, essere in serie B non è come fare un passo indietro, hai tante motivazioni e voglia poi di riconquistartela in altro modo attraverso quest'anno la serie A? Certo, per me non è una scelta sbagliata perché per me era importante giocare, sono sicuro che qua sono tutti bravi ragazzi, ho trovato una brava squadra, sono un giorno qua, non conosco ancora nessuno, bene bene, però già vedo sul campo che tutti danno massimo, sono tutti concentrati e sicuro così anche aiutano a me e io posso aiutare anche a loro che facciamo un buon risultato. L'anno scorso è stata un'annata particolarmente fortunata per te? Sì, non è perché ho preso un infortunio grave, che si può succedere certo in calcio, però per me adesso sto bene, sono pronto, ho ritornato così spero che faccio questo anno meglio. Dice che diverse squadre di Biti avevano cercato, però tu vi hai rifiutato, il Brescia invece l'ha accettato per un discorso di Vlasone, per un discorso di importanza, perché hai cambiato idea? Per questo, perché ho sentito che prima cosa che già conosco Brescia e lo so che è una squadra di storia dietro, ho sentito che c'è un grande tifosi, che anche può essere un grande impegno per noi giocatori, che per me è anche importante, ho sentito che è una bella città per vivere, che è anche una cosa importante, però alla fine per me era molto importante trovare una squadra dove possiamo fare una squadra che pensa a vincere sempre, che c'è una voglia, grinta magari anche a dare in Serie A, che certo non è una cosa facile, però noi diamo massimo, e alla fine giocare e tornare in forma che avevo prima. Dietro siete in tanti, però tu sei avvantaggiato, sei l'unico mancino lì in mezzo. Sì, anche io, oggi ho sentito questo, però secondo me... Ti faccio il sospiro di sollievo. Sì, sì, questo può essere importante, può essere non importante, però è sicuro che con uno mancino a sinistra spero che sarebbe meglio, no? Anche perché era quello che voleva Brocchi, almeno. Non so io, sicuro che sono arrivato qua perché posso aiutare a questa squadra, adesso secondo me è meno importante chi mi voleva, è importante che squadra gioca bene, è importante che noi diamo tutto quello che possiamo dare per fare buon risultato. Non ti spaventa il fatto di essere in una squadra molto molto giovane in cui tu sei uno dei più esperti? Eh no, perché anche qua posso, come loro da me, anche io posso imparare da loro tante cose, secondo me, a me mi piace questo perché sono sempre quelli giovani che sono molto motivati per fare bene, per dimostrare la sua qualità, dare il massimo su campo al 100%, è sicuro che anche questo aiuta tanto. Ti danno anche una spinta in più, magari. Certo, certo, certo. Grazie. Grazie.